Facciamo il punto della situazione. Sono passati ben tre mesi dalla notizia dell'annuncio di Pokémon Scarlatto e Violetto e non abbiamo avuto alcuna notizia ufficiale oltre quella mostrataci nel primo trailer. Ci sono stati tantissimi rumor, tantissimi leak, alcuni falsi, altri veri, tutti falsi in realtà, e la sete di conoscenza su ciò che ci aspetta dalla regione spagnoleggiante è sempre più grande. Secondo me ci sono tre cose che vedremo quasi sicuramente nel prossimo trailer. Prima fra tutte ovviamente il nome e l'artwork della regione. In fondo Pokémon addirittura nei primi trailer dava nome e cognome della regione, invece stavolta nulla, tutto tace. E non credo che sia perché ancora non ne hanno pensato uno, anzi secondo me sono le prime cose che pensano quando buttano giù la trama. Un'altra delle cose che sicuramente vedremo perché l'hanno sempre fatto da un po' di tempo a questa parte sono i leggendari di copertina. Nel secondo trailer spesso e volentieri vengono mostrati i leggendari. L'abbiamo visto anche con Spada e Scudo quindi non vedo perché non vederlo anche con Scarlatto e Violetto. Mi sembra ragionevole. E ultima ma non meno importante è lo stile di combattimento. Alcuni insider hanno detto e specificato che no il combattimento e la lotta saranno come in ottava generazione su Spada e Scudo. Siamo sicuri? Non ne sappiamo molto. Ci sono screenshot sul sito ufficiale Pokémon ma nessuno mostra l'HOD. L'HOD sarebbe cosa scegliere quando sei in lotta, se fuggire, se combattere, la salute del tuo Pokémon, quella dell'avversario eccetera. L'ultima cosa che aggiungo come punto bonus è la grafica. Visto che a molti piace, perché non mettercela? Vogliamo miglioramenti grafici? Ma perché no? In fondo l'occhio vuole alla sua parte. I miglioramenti grafici si sono notati fin da primo trailer rispetto a leggende Pokémon Arceus, dallo scegliere dei Pokémon, dallo scegliere delle terre e seppur le animazioni sembrano sempre le stesse, in realtà i modelli dei Pokémon sono totalmente nuovi. E grazie a Creatures che finalmente ha deciso di fare modelli totalmente in 3D. Guardando Spada e Scudo i miglioramenti grafici si sono visti dal terzo trailer, seppur piccoli. Però c'erano. Insomma quello che vogliamo vedere tutti, specialmente i leggendari e la terra, il nome, come è strutturata, ma anche insomma le lotte non è che ci fanno schifo, non è chiedere troppo. Magari chiedere troppo sarebbe vedere la meccanica nuova. Perché è ovvio che c'è una nuova meccanica, non possono sfuggire alla nuova meccanica della nuova generazione Pokémon. Anche se poi la Dynamax c'è stata in un solo gioco, comunque. Ma voi cosa vorreste vedere nel prossimo trailer? Fatemelo sapere qui nello spazio commenti e date un'occhiata in descrizione per la pagina Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.